Il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna arriva alla sua 38esima edizione. Domenica 31 gennaio a Ravenna e domenica 7 febbraio a Punta Marina a Terme sfileranno 17 gruppi mascherati in rappresentanza della città di Ravenna, dei Lidi Ravennati, della città di Cervia e delle località del territorio Ravennate. New Entry quest'anno la località di Sant'Antonio e ritorno dopo alcuni anni di assenza di Porto Fuori. Abbiamo scelto come tema gli antichi mestieri per far riscoprire ai nostri ragazzi e alle nostre comunità un pochettino quella che è la tradizione del nostro popolo italiano. Diciamo che la risposta a questa nostra richiesta è stata ben accolta da tutti e quindi adesso ci attendiamo di vedere come le parrocchie avranno e quali mestieri antichi le parrocchie avranno in un qualche modo scelto per rappresentare questa edizione del Carnevale. Quest'anno il ricavato della manifestazione verrà devoluto per la missione della diocese di Ravenna in Peru. Quest'anno abbiamo deciso di orientare queste risorse per una missione che abbiamo aperto come diocesi a Lima, capitale del Peru, nella periferia della città dove ci è stata affidata una parte di una grandissima parrocchia e lì ci sono diverse opere da portare a compimento tra cui le cappelle che sono sparse sul territorio di questi quartieri. C'è anche per esempio la creazione degli ambienti di ritrovo della popolazione e le sale per le riunioni che servono a tutti e anche una scuola. Verrà consegnato al vincitore, carro o gruppo mascherato che avrà meglio espresso lo spirito del Carnevale il trofeo del Carnevale 2016 e a tutti il premio di partecipazione.